Grazie Salve Un secondo, scusate mettiamo posto un attimo gli strumenti Salve Intanto che i ragazzi preparano gli strumenti Io intanto che i ragazzi preparano gli strumenti accorcerei i tempi perché così successivamente poi possiamo passare direttamente ai 10 minuti di break voi siete i ragazzi di Poligno è il secondo anno che partecipate a questo evento vi ho incontrato anche a Rocca in Giù se non erro siete tre fratelli la loro Claudia sono tre fratelli cantano, suonano, ballano se la suona non se la ballano se la suona non se la ballano facendo tutto da soli sicuramente ci sarà sintonia e una sintonia si prendono a capelli dalla mattina alla sera sentite se siete pronti si siedono ok ragazzi ci sono signore e signori cantano opera prima grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille på Sì 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 Sì